ma non potete andare dietro cazzo cambialo no cazzo ma cambialo cambialo no è un'ora che l'hai rotto sta in silenzio è mezz'ora che dentro non riesce a camminare cazzo spesso invece sta fuori non si tira è una vergogna è mezz'ora non riesce a camminare dove la devi guardare devi scambiare non vedi come è facciata cosa aspetta a cambiare non c'è da dire perché non ha fatto male è una vergogna ma hai visto che mi sono fatto male ma che cazzo ma non lo so con chi se volete perca miseria vai ragazzi è proprio una partita di 2-0 perché noi non ne riteniamo è proprio così ma si è un pezzo verso il pezzo contro su a mezz'ora sono fai camminare si pensano a fettare in giro che si piega dietro si piega dietro si piega dietro si piega a camminare vai 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 non c'è da fettare in giro vai 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 se non c'è da fettare in giro si camminare ma si cazzo ma l'hai visto quella in giro per lasciarlo nei spogliacoi qua si vai si no dai che fuori giù dai vado ti tolte l'ernio tutto vado bene dai dai vado vado bene vado 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 grazie a tutti 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 grazie a tutti